Numeri record per l'Aves di Biella, ad evidenziare il presidente Lorenzo Tivelli durante l'assemblea che si svolta nei giorni scorsi, netta la crescita di donazioni e di giovani iscritti che hanno superato quota 3.500. In un tempo in cui l'impegno civile sembra attraversare una crisi senza precedenti, ha detto Tivelli, complici anche le limitazioni dei due anni passati, sono sempre di più e sempre più giovani i biellesi che si avvicinano alla donazione di sangue. Un gesto di altruismo che porta con sé uno stile di vita sano e controlli costanti della salute. Ed intanto sono 182 i nuovi volontari della sezione di Biella che hanno portato a 3.543 i donatori attivi. Il più giovane iscritto ha appena compiuto 18 anni. Le donazioni sono arrivati a 4.320. Un risultato reso possibile anche con l'impegno del servizio trasfusionale della SL di Biella, diretto da Francesca Vaniglia, che con la collaborazione di tutte le associazioni e di tutti i volontari, è riuscito ad assicurare all'ospedale e al territorio la piena autosufficienza di sangue. Stiamo uscendo da questo stato di emergenza con il quale abbiamo convissuto per due anni, ancora sottolinea il presidente Avis Biella Lorenzo Tivelli. Ora che le sale operatorie e l'attività dell'ospedale riprendono a pieno ritmo, considerando i tanti interventi da recuperare, il sangue potrebbe non bastare. Ecco perché è importante allargare ancora di più il numero di donatori pronti a donare in caso di necessità. Avis Biella ricorda che la donazione del sangue è un gesto volontario, gratuito, periodico e anonimo e consente di tenere sotto controllo la propria salute e promuovere uno stile di vita sano. Per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. La donazione di sangue viene effettuata in ospedale con materiali sterili, senza alcun rischio per la salute. La durata varia da 6 a 8 minuti in media.